Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio della serie di sopravvivenza Oggi, come potete vedere, ci ritroviamo qui sotto Perché in questo episodio avevo intenzione di creare la nostra primissima farm automatica al 100% di qualcosa In questo caso, visto che il cibo, purtroppo, la faccenda del cibo che finisce subito non si è risolta con la farm di coltivazioni Questo lo sapevo già, ma era giusto per avere una cosa momentanea quella Direi che oggi possiamo andare a fare la farm di poliautomatica Però qual era il problema? Il problema era che avevo finito tutta la redstone Perciò mi sono messo qui a livello 10 E mi sono messo a scavare dritto Finché non ho trovato un po' di redstone Per poter fare tutti i macchinari Tutti gli oggetti di ripetitori Le torce, quelle cose lì Direi che uno stack e venti possono bastare Anzi, prendiamo anche questo perché mi dà fastidio lasciarlo qui E possiamo tornare su Qui sarà dove farò la mia miniera Dove mi metterò a scavare Allora, sapete tutti come si fa una miniera in questo modo, no? In pratica scavi di due qui O altra redstone E poi ti metto a scavare dritto così Finché non ti scocci E la stessa cosa anche da qui Fino all'infinito in pratica Qui è dove sorgerà la mia miniera E dove si trova qui Vicino allo spawner di zombie Ricordate? Abbiamo fatto un 4-5 episodi fa questo E' stato molto utile Vedete? Sono di nuovo a livello 30 Vediamo se incantiamo qualche cosa Qui è buono anche perché Ho scoperto che qui proprio Da queste parti Non so dirvi bene bene dove Si è il confine Comunque qui c'è un chunk di slime E si potrebbe anche fare una farm di slime qui sotto Sarebbe molto utile Perché così non dobbiamo andare a farmarli Alla palude di notte Che può essere anche pericoloso Per certi versi Visto che possono spawnare scheletri Zombie Streghe E non è proprio il massimo della vita Andarli ad affrontare in una palude Allora, se facessimo una farm qui sotto Sarebbe molto buono Adesso vediamo È giorno e notte È notte E vabbè Qui devo pure illuminare Guardate quanto è buio Fatemi piazzare qualche torcia Così, se no Poi mi spawnano i creeper E mi distruggono i percorsi E io mi arrabbio Vediamo una cosa pure qui 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 E via Oltre a poco andiamo a dormire Allora, vediamo Che cosa ci serve per fare questa farm Allora, di certo ci serviranno Degli hopper Prendiamo il ferro Ma qui ho già messo i diamanti Che avevo trovato Nella fortezza Lì nel nether Tu sei un drop Vai qui Fatemi un attimo appoggiare le cose che non mi servono Bene E un po' di vetro mi servirebbe Però questo qui non credo che basti Mi serviranno anche i ripetitori Perciò prendiamo questo Vediamo che altro può servire Mi sa che servono dei dispenser Perciò ci serviranno i fili Perché i dispenser Vi ricordo che si fanno con gli archi Poi torce di redstone Vabbè li posso fare Mi pare basta Un secchio di lava C'è l'ho il secchio di lava? No Però lo posso andare a fare E che altro? Direi nient'altro Basta Allora Prima di tutto ci facciamo Un ripetitore almeno Per fare il ripetitore Vediamo Bisogna fare le torce di redstone E facciamo 4 Dai Così E poi mi sa che si faceva così No? Non si faceva così? Ah mi permessi Così Il ripetitore ce l'abbiamo Poi 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 Ci serve il Il dropper O il dispenser Come si chiama Vediamo Ah se questo qua è il dropper Ci serve il dispenser Non voglio usare quest'arco Perché poi mi dispiace Perché è il primo arco Che ho craftato In questa serie Vediamo Di dispenser E vabbè Quanti me ne posso servire? Uno Penso che uno Posa bastare Intanto facciamo Facciamone uno Nel caso Ne possiamo fare altri Lui si faceva così E così Penso ci servono altri Poi Poi Ci servirà un Sapete il coso Che vede Se è giorno e notte Però non mi ricordo Come si crafti Un attimo Fatemi vedere Su internet E cavolo Il vetro proprio Non mi basta Perché Mi servono I slab di legno Così Mi servono pure Il 3 di vetro Qui sopra Non ho preso I cosi Il quarzo Ma che sto a fare Il quarzo L'avevo messo qui Vediamo C'è la sabbia Un po' di sabbia Però È poca Devo andare a fare altro Lo dicevo Così Così E così Ce ne facciamo uno Però non basta Mi sape ne servono Almeno due Poi vediamo Le ceste Stanno lì Mi sono già riempito Tutto Tutto Mada Ho fatto Mi lasciare Questo piccone Che ormai è finito E lasciamo stare Anche questo Droppo E questa Pietra Non serve Allora Mi servono Almeno Due dropper Come minimo Le ceste Sono quelle che ho trovato Nella fortezza Del nether E ne facciamo Due Otto Poi vabbè Mi basta La lava E il vetro Vediamo Se si è fatto Giorno Intanto Si sta facendo Giorno Andiamoci a prendere La lava Che so benissimo Che si trova Qui dietro Una pozza Di lava Sapete che ora Mi è venuto in mente Come faccio A fare una farm Di polli Se i polli Non ce li ho Eh Questo qui Un problema Ma là sta un pollo E non è simo Però Iniziamoci a prendere Qualcuzza Oh no Non c'è un tami Così Stanno qui Le uova pure Possono Tornare utili Vabbè Io questa parte Ve la taglio Però Dovrò Stare qui A A portarmi I polli Almeno Questi quattro Se no Non va bene Uh Attenti alla lava Non vorrei che mi bruciaste Prima del tempo Che ci sarà un tempo Luogo per bruciare Ma non ora Allora Appena arrivate a casa Questo qua sarà il luogo Il luogo Dove Marcirete Allora Andate sotto Poi vi vengo a riprendere Non vi preoccupate Oli Perfetto E abbiamo i polli Questi qua Avevo paura di non trovarli Guarda Mi hanno fatto pure un po' di uova Il che Non è ma Attento con sto secchio di lava Non vorrei mai che mi Buttassi la lava in casa Allora Fatemi mettere qui E non ho preso la sabbia Ma Vabbè Ora vado a prendere la sabbia Ecco qui Tutta la sabbia Di cui avrò mai bisogno Anche di più Quanto ne ho? Vabbè Arriviamo a 16 Altri due Basta così Allora Tuffami il vetro E allora Che altro mi serve? Ho fatto tutto Penso Non mi mancherebbe da fare un observer L'observer Come cavolo si faceva l'observer? Allora Mi pare Una roba del genere Mi pare Allora Così Ecco Così Sì Ah Mi ricordo ancora E questo coso Direi che si potrebbe fare anche Nella zona che avevo intenzione In cui avevo intenzione Di mettere le farm Però non so Perché avrebbe bisogno della luce solare Io avevo intenzione di Fare le farm qui Però Di norma Se facessi un buco che va verso l'alto Non ci sarebbe questo problema Perciò vediamo Adesso mi metto a creare una stanzetta qui E ci vediamo tra poco Vabbè dai Una roba del genere potrebbe anche bastare Per il momento Allora Come si fa? Vediamo Iniziamo dalla parte Diciamo di Collezionamento Allora Facciamo così La chest Che parte da qui Qui verranno Sistemati tutti i drop Poi mettiamo qui Il coso Ah e fatemi fare anche Lasciamo qui la crafting Visto che ci sono La metto qui Ci serviranno anche degli slab Facciamo di cobblestone Perché tanto ne siamo pieni E la mettiamo qui Poi dobbiamo Metterci Il coso qua Il dropper E se vedete Ora ho controllato bene bene Ho visto che servivano due dispenser Perciò vediamo Di farne due Sì perché uno deve Lasciare la lava E l'altro deve Sparare le uova Giustamente Allora facciamo L'arco Mi scordo sempre Allora Di certo Non si fa così L'arco Così forse Così La redstone E Il coso Ecco qui Poi vabbè Questi qua Ci li convertiamo In torce normali Che non sono mai abbastanza E vediamo Uno Deve puntare di qui Perciò Mettiamo un blocco D'appoggio Uno deve puntare Esattamente qui Poi dovrei Metterne uno Anche qua Perché questo qui Tirerà fuori La lava E qui ci saranno I polli Quelli grandi Vuoi direi che Dobbiamo fare L'altro Delete Sensor Che si faceva così Ma dov'è questo? Ecco qui Questo un attimo Che si fa dopo Ora Com'è ora Bisogna Mettiamo Il vetro Perché io li voglio Vedere Questi che muoiono Vediamo Una cosa del genere Ecco qui E ho finito Già il vetro Però vabbè L'avevo messo Un altro a cuocere E adesso qui È un po' Un macello Perché Dovrò fare Il meccanismo Che Deve Lanciare la lava Con un clock Che verrà Attivato Con il Delight Sensor L'Observer Blocco Vabbè Un macello Adesso vi faccio vedere Adesso mettiamo Una cosa qui E bisognerebbe mettere Uno slab Qui Giusto E un altro blocco Qui Perché adesso Bisogna fare Un'accusa Così E qui Rompiamo E rompiamo anche qui E qui sotto Ci andiamo a mettere La torcia Di redstone In questo modo Mentre sopra Dove si trova Quello Ci andiamo a mettere Della semplice redstone Ecco qui Qui invece Bisogna mettere Di nuovo La redstone Mentre qui Ci mettiamo Il ripetitore In questo modo Sto sbagliando Qualcosa Certo che sto Sbagliando qualcosa Perché devo mettere La redstone Anche Lì dietro Ecco Ora si E così Che doveva fare Poi bisognerà Mettere Un daylight sensor Questi qui Qui Penso Che vada Qui Non ne sono sicuro Un attimo Che controllo Non qui Ma bensì Qui E poi invece Dall'altro lato Che punti Verso quello Dobbiamo mettere Così Ecco qua Ora si E penso che Il circuito Sia completato Vabbè Bisognerà scavare Verso l'alto Per far arrivare La luce del sole Però vabbè Lo si fa Molto semplicemente Vabbè Qui dovrebbe Rimanere così Non credo Bisogna mettere altro Lì bisogna Metterci i polli Che direi Di andarli anche A prendere i polli Se no Che cosa stiamo a fare E chiudiamo Vabbè Io chiuderei qui Proprio con la cobblestone Perché Tanto non li vedremo Lo stesso Questi Ma per chiuderli i polli Eh E lì mi voglio Vabbè Ora Provo ad andare A prendere i polli Speriamo che Non sia troppo difficile Cavoli Sta facendo notte Devo sbrigarmi Olli Seguitemi Oh E tu che vuoi Cavoli E niente Ma iniziano a spawnare I mob Vabbè Intanto che Qui fa notte Vedo di Scavare un po' Verso l'alto Per Il Dei light sensor Qua Vediamo Quanto Mi manca Per Arrivare alla cima Pochissimo Non Non credevo Vabbè Qui per No Tanto che sto a fare Cavolate Fatemi mettere Un coso di letto Qui Nel caso Così Non mi cade Nessun mob Spero Di non aver fatto Cavolate Nel caso Io vi lascio Il link Di chi l'ha Progettata Questa farm E ve l'andate A vedere Dallù Direttamente Boh Io non capisco Se sta tramontando Il solo Preno I polli Mi sono rimasti Qui Ne venite Con me Voi siete Fortunati Non morirete Lo sapete Ci siete Vieni Allora Da qui Si guardate Già se Si ammazzano Scusate Potete venire qui Potete Un attimo Allargare Allora Scusate Vieni Vieni Ma perché Non vengono Entra lì Oh Uno ce l'abbiamo No No Perché Ovviamente E' uscito E beh Poteva Rimanere E venite Qua Venite Fatemi Chiudere Qui E mo Questi qui Non mi casano Più Certo Aspettiamo Voi figliate Oh Fatemi Chiudere Il tutto Qui Visto Che ci siamo In questo modo Dovrebbe andare E mettiamo il secchio Di lava lì Comunque La farm Dovrebbe essere Attiva Più che altro Adesso Il problema Sarà quello Di Mettere più polli Lì dentro Perché più polli Ci sono Più possibilità Ho di Avere Galline Che Che facciano uova E che si Vadano a schiudere Lì dentro E che mi Vadano a ammazzare I polli Per cui Vabbè I semi Li ho finiti Fatemi andare A prendere Altri semi Che dovrei avercene Oh E voglio Ma scusate Questo qui Non dovrebbe esistere Ecco Ora si E prima Non stava funzionando Io appunto Mi chiedevo il perché Allora Ho sbagliato Qui non ci va Nessuna redstone Mi raccomando Ora dovrebbe Ogni tanto Dovrebbe Sparare Ah Vedete qua Ci ho messo pure questo Vabbè dai Per questo video Può bastare Vedremo Se funziona Nel prossimo episodio Qui adesso Lascerò un po' Tutto In FK Poi andrò A nutrire ogni tanto I polli Per farli Moltiplicare Lancerò delle uova Cose del genere Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Condividete Iscrivetevi E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Da Enderhead Qui è tutto E Psycon Gru Iscrivetevi